Assessore Scaiola, dunque quali le considerazioni dopo questa mattinata intensa molto importante per i balneari e l'economia locale? Noi siamo qui a Roma come capofila del demanio, la Liguria, con me come assessore al demanio che coordino il tavolo interregionale, siamo qui a Roma per chiedere al Governo di battere un colpo, per chiedere al Governo di assumersi le proprie responsabilità e di tutelare le 30 mila imprese italiane che vivono l'incertezza. Sono quasi 5 mila le imprese che lavorano sulle nostre spiagge, noi vogliamo tutelarle, siamo contro la Volkestein perché è una legge pericolosa, è una legge che rischia di dare i nostri litorali in mano alle multinazionali straniere, noi non vogliamo svendere la storia e la tradizione della Liguria e quindi io sono qua per chiedere anche alle altre regioni italiane di seguire la Liguria perché uniti, insieme possiamo ottenere dei risultati. Da solo non andiamo da nessuna parte, cercherò loro aiuto e vedremo come andranno le cose. Mi fa piacere che siano venuti centinaia di balneari per seguirci e per coordinarci.